Gaspari, finalmente il protocollo con il comune di Crotone? Sì, abbiamo fatto un tavolo di servizio qualche giorno fa, grazie all'audacia del sindaco che l'ha voluto e l'ha portata a termine. Ora, il tavolo consisteva nel suo gruppo dirigente e anche il vice sindaco, la parte che riguarda la scuola pitagorica e l'impresa nella figura di Nunzio Cannavale, di Sergio Torromini, di Chimica Impianti. Insomma, quello che è venuto fuori è questo, questa città finalmente, a parte le storie della politica, ho cominciato a vedere che la città è amata. Quello che mi interessa a me è che questo possa unificare momentaneamente gli interessi verso la città che va amata, come l'amano tutti. Però oggi questo momento di giubilo per me, ma anche per la città, visto che la desiderano da tanto tempo, è questo. Cioè, amarla e vedere di promuoverla e rivalutarla nel mondo. Ma per quanto riguarda il mondo dell'impresa, sono tutti d'accordo? Una gran parte. Poi io quando parlo di imprese non parlo solamente dei BIC, diciamo così, ma parlo anche di tutti coloro che ogni giorno si alzano al lavoro. Comercianti, piccole imprese, artigiani, ecco, tutti questi mi stanno intorno. Anche quelli che hanno uno spessore maggiore hanno capito, in questo caso per esempio come Sergio Toromini, che ha voluto ed è deciso a parteciparsi come azienda in prima persona per la base, che verrà fatta in acciaio corten. Quindi, o come nunzio, che ha dato il rame, che serve per farla. Ecco, questa è una statua voluta dalla cittadinanza, creata da me, per dare un simbolo a questa città di rinascita, un simbolo vero, no, aleatorio. Insieme alla Madonna di Capocolonna forse noi congiungeremo, no? In questo mese di maggio, come siamo arrivati a una, non dico una svolta, ma un inizio. Scusa, ma allora non più Gaspare da Brescia, Gaspare da Crotone? Sì, magari mi creo un altro artista, un pseudonimo, io ne posso fare quanto ne voglio, da Crotone, da Brescia, da Scandale, visto che sono di Scandale, che saluto tanto i miei concittadini, è un saluto ai miei genitori, che ci hanno lasciato momentaneamente. E quindi sono felice di questo e io mi assumo tutta la responsabilità di questo progetto, per coordinare le varie forze, compreso anche la tua attenzione.